Allora Niccolò Masciangelo, il capitano dell'Alitalia, una vittoria molto importante nonostante sia stata sofferta fino all'ultimo. Sì, sicuramente loro sono un'ottima squadra e niente, è una bella partita, alla fine abbiamo vinto e quello che conta, insomma, sono altri tre punti. Da quando la squadra è stata ricostruita penso che non valiamo sicuramente gli ultimi posti dove stiamo, ma secondo me se fosse stata questa squadra in questo campionato sicuramente eravamo in posizioni più alte. Sono stati sicuramente importanti gli ultimi innesti che sono stati fatti nel mercato di gennaio? Sì, sì, sono importanti ovviamente anche i giocatori che c'erano prima perché la base è sempre quella fondamentalmente, sono cambiati un po' alcuni punti di riferimento e importanti tutti, Barillaro, Oggi Minotti, il portiere Calcaro, io pure, insomma, io penso di aver fatto otto o nove partite, tutti nuovi, insomma, con i nuovi bene e bene anche con i vecchi, Mario Menovelli, Liges, che insomma sono molto bravi. Sì, allora adesso salite a 18 punti in classifica, prossima partita con i Pumas, comunque lotterete fino alla fine per non retrocedere e per giocarvi play out. E adesso sinceramente non so come stiamo messi, se siamo ancora in zona retrocessione o già play out. 18 punti in penultima posizione ma siete a due punti dalla terza ultima che è il Blisseur stesso. Ok, beh sicuramente, sicuramente noi lottiamo insomma per giocarci play out, poi non so, non ho visto ancora la classifica bene, quindi non so come funziona, come possiamo arrivare, però secondo me retrocedere diretti è fuori discussione, spero e sono pronto a fare una scommessa, insomma. Grazie. Grazie a compito, ciao. Grazie.